La Laura è riconosciuta, Masserano. Loro non hanno pinta di niente. Lui non mangia la maionese. Buono? Lei è quella sana. Anni, un sorriso. Sembrino psicopatico. Pensate un po' come lo assegnano in Italia. Sakela. Arianna. La stufa. Poi rimettete in posa. La stufa. La stufa. La stufa. La stufa. La stufa. Non dico più niente perché sono una vergogna. La stufa. 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 Allora Ci separiamo, ci eravamo separati, ci siamo separati Divorziamo, avevamo divorziato, divorzieremo Perché questi verbi sono un paradosso? Perché ci siamo mai essenziali? Che vorresti dire io? Come diceva tutti i miei, perché non conta niente No, nel senso Poteva aver detto No, ci siamo messi insieme Poi ci stavamo separati Perché sono verbi coniugati Oh no no Ragazzi, ci siamo Vediamo il telefono Qual è l'altezza massima che una montagna Potrebbe raggiungere sulla terra Potrebbe eh? Che vuol dire sempre? 42 L'altezza è ancora più Come dire? Il quale è 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 la terra Potrebbe raggiungere Nella terra Potrebbe essere su quale è la terra 500 metri, 15.000 metri, 5.000 metri, 9.000 metri 10.000 No, secondo me 15.000 è perfetto Sì, 15.000 è perfetto No, l'utilizzo di queste immagini Non so cosa c'è così Sì, certo mi taglio prima Non sai che è la storia del suo personaggio del D&D Che lui ha pagato la casa, ha comprato la casa cinematografica per farsi film sul proprio personaggio del D&D Io lo amo quello, ma chi? Facendo le cosacce con la ninfa nel bosco Se c'è la carta della ninfa O così Poi sono le carte giorni che possono essere date per entrambi i cosi A presto 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 A presto